Spoltore e Casalbordino si affrontano per la 26esima giornata del campionato di eccellenza. I padroni di casa sono in cerca di quella vittoria che li porterebbe fuori dalla zona calda della classifica. Dall'altro canto il Casalbordino vuole i tre punti per credere ancora nella rimonta e sono subito i giallorossi pericolosi con Salguero ma Palena sventa la minaccia al decimo minuto. Il gol è rimandato, giro di lancette, ripartenza Casalbordino con Grandis che finalizza l'assist di Regner. Risponde lo Spoltore, combinazione sborgia con Nestari, cross per Selva Allegra, Thor si rifugia in calcio d'angolo. Ci prova anche Belli dalla distanza ma il portiere ospite in due tempi sventa la minaccia. Ancora Salguero pericoloso e nuovamente Palena il migliore in assoluto in campo a opporsi alla minaccia. Nuovi errori in uscita dello Spoltore e Palena è glaciale nello sradicare la palla dai piedi di Regner e non commettere fallo. Al quarantesimo arriva la possibilità del raddoppio su traversone di Della Penna, l'intervento di Belli con le braccia lungo il corpo. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara Cavacini di Lanciano che indica il dischetto sul penalty Regner ma ancora una volta si erge a protagonista assoluto della gara Palena bloccando la sfera. E con le immagini montate da Mario Giacchetta passiamo alla ripresa. Ci prova Della Penna dalla distanza al tredicesimo minuto ma Palena nuovamente si fa trovare prontissimo. Ventiquattresimo minuto cross di Regner colpo di testa del nuentrato Grupesic che però manda a lato. E al ventiseiesimo arriva il raddoppio errore in uscita dello spoltore Grupesic si avventa sulla sfera, si invola verso la porta e insacca per il 2 a 0. La risposta dello spoltore è affidata plenamente, il suo calcio di punizione però termina sul fondo. L'ultima azione degna di nota è di marca Zulgrana, Frosina De Vincenti spalla per Petraluro. La conclusione viene smorzata dalla difesa ospite. La gara si conclude con la vittoria meritata del Casalbordino che a fine gara si va a prendere l'applausi dei propri tifosi. Per lo spoltore invece arriva la seconda sconfitta consecutiva. Mister Di Camillo, si sapeva che questo Casalbordino era una squadra ostica che forse arrivava nel momento peggiore per lo spoltore? Sì, ne avevamo parlato anche in settimana che questa partita era purtroppo molto insidiosa perché loro da gennaio hanno cambiato tanti uomini, hanno preso gente esperta, gente forte come le due punte lì davanti. Noi però se non cambiamo un attimo, non dico atteggiamento, però se capiamo che adesso stiamo rischiando tanto nella lotta per non retrocedere, rischiamo davvero di farci risucchiare sotto e di non fare più questo campionato. Mister, com'è uscire fuori da questa situazione? Come sempre, io sono uno abituato sempre a lottare, a lavorare durante la settimana e credo che non c'è medicina migliore, come si dice, di lavorare durante la settimana, di non mollare mai e lottare fino all'ultima giornata. Grazie. 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 Grazie.